ok abbiamo iniziato per analisa buongiorno tutti dimmi se si è già connessa se no ti accompagno ulteriormente dimmi se ti serve sì se la miserva ok da 515 4 3 2 1 vedo analisa che lei ma è un bimbo maschio nessuna di quelle giostre che girano il parco giochi vita precedente se ti dà l'autorizzazione analisa e mi darà autorizzazione dice ha iniziato tutto da lì andiamo con la vita allora bambino sulla calena giusto sulla giostra che gira sono sei quella giostra dove ti sedevi e tirava il volante e mezzo tipo a con delle macchinine o delle vetture fisse a un piano disco se era tipo un cerchio dove ti sedevi intorno e c'era una ruota e mezzo che si girava e girava se 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 in quale linea temporale questa o un'altra no in questa linea temporale dice intorno sembra 1920 dice poi è morto piccolo aveva tipo 21 anni dopo quando è morto lì ne aveva 7 bene cosa succede in questa giostra su questa giostra è lì perché era mi fa vedere una scena dovere in questo parco giochi vicino al posto dove si ritrovavano tutti i suoi parenti erano già testimoni di geova e come se lei facesse parte già questo bimbo facesse già parte della famiglia di annalisa c'è quindi eravamo si vorranno esatto questo bimbo si ricorda c'è sicura mi sta raccontando che era fuori dal parco giochi appunto di uno di questi posti dove si ritrovavano a fare le preghiere e me la mostra perché quel giorno lì allora ti dico quello che sento cioè lui è seduto lì e da solo sta aspettando i suoi genitori presumo e sente urlare sente come se sente una donna che urla no io basta non lo faccio più e due uomini è un'altra donna che gli urlano tu lo devi fare cioè come se venisse obbligata a doveva stare di per forza di dove in quel posto di quel giorno perché lei voleva voleva togliersi voleva questo posto delle preghiere vicino ai parco giochi una chiesa sì sì però era detto simone diceva lei voleva proprio togliersi dalla la regione non so come si fa fisicamente toglie donna è la madre del bambino cioè di analisa sì ok ci riesce no non di no ci riesce successivamente no no è come se il bambino come si chiama francesco ok come se è come se analisa fosse rinata in questa famiglia dove poi la mamma di diventa può essere che la mamma di diventa testimone diceva quando lei aveva sette anni è arrivata questa informazione sette anni si caspita non lo sapevamo e otto anni e analisa piange ecco allora la mamma di i genitori di analisa sono morti adesso li chiameremo la madre non nasce testimone lo diventa lo sappiamo questo non ha sette anni a sette anni ecco la bambina quindi se no quando quando analisa aveva sette anni a quando analisa aveva sette anni e quindi la madre di francesco è la madre di analisa che ripetuta la stessa situazione esatto solo che la madre di francesco voleva smettere la madre di analisa è diventata dopo esatto fatto l'opposto e francesco lo era immagino perché era il figlio di una testimone di geova e analisa lo è stata se non so in quando ma lo è diventata beh immagino a sette anni ha preso una siccola mamma diventa che la figlia diventa sebbene il padre non ne volesse sapere va bene oggi vediamo tante cose ma c'è protagonista come so come sempre il solito geova io speravo di non vederlo più invece chiamiamo il grande dio vediamo se dio perché magari io mi sbaglio chiamiamo geova è arrivato in china facendo un inchino così come per dire eccomi ci vuole produrre una d'eterno ma geova cioè un concentrato di emettitore di vibrazione eterno come abbiamo creato noi allora lui ha provato perché voleva provare a dimostrarti che poteva farlo ma mentre lo crea gli si bruciano le dite quindi non riesce a crearlo ok non ci vuole riprovare magari utilizzando tutta l'energia che prende dai suoi adepti no ha detto no non ci provo più di bruciato ne vuole uno gliene un regalo uno io lo credo in un istante non lo vorrebbe ma io gli ho messo lo stesso mettiglielo davanti un po lontano perché se no poverino si brucia lui si avvicina lo prende non è tanto affamato di vibrazione e frequenza gratis non ha approvato e ha visto che si brucia quindi questo è interessante perché queste entità perché questa è un'entità alla fine vedremo lo mostreremo hanno fame di energia e di vibrazione di frequenza ma le alte no perché devono avere quella che è la stessa moneta vibrazione energia ma a bassa frequenza quindi a basso numero di giri e a basso numero di giri è frustrazione sbattimento bassa una dolore senso di colpa non hai pregato quindi grandi energie ci avete mai pensato che la religione tutta tutte le religioni lavorano su basse frequenze senso di colpa il peccato originale che fa ridere per l'organizzare una delle robe che mi fa scoppiare a ridere immediatamente peccato originale ma di che io nasco con il peccato ma chi è deciso poi ma chi l'ha del peccato cos'è senso la colpa sesso senso di colpa non si è sposato non si è sposata molto male le zozzerie le vergogne lì c'è la vergogna li metti la foglia di fico lì non va bene ma perché chi l'ha detto dov'è e se l'essere romano nasce così l'ha voluto dio allora evviva mostriamo il pene la vagina qual è il problema l'ha voluto dio ci ha fatto così no alla vergogna perché perché queste entità vogliono possono succhiare solo basse frequenze se ne vogliono le frequenze se la vogliono il numero di giri del motore perché non lo hanno ad alto numero di giri farebbero prima cinque minuti hanno un sacco di energia gli sto regalando una d'eternum non è la mia energia io ne faccio quanti ne voglio io ho capito delle cose perché non si prende sta pallina scappa e mi rimolla tutti i suoi adepti lo faccio gliela metto nel collo adesso adesso entro e gliela metto nel collo della camicetta se ha una camicetta e sono stato buono che fa vibra tutto brucia tutto sta si sta dissolvendo come al solito pian piano partendo dal collo la testa e poi anche il resto ok questo è geova yahweh di anna lisa ma lo è per me perché sto io agendo su di lui esistono infiniti di geova quello di anna lisa come si certo è come se si dividesse a seconda di a seconda dell'energia che la persona messi mette si crea un geova no perché informazione geova quindi è un po simile alle entità mentali collettive no allora chiamiamo una grossa entità mentale collettiva ok chiamiamo questa è una grossa menti tra le collettiva geova che di fatto è composta da tutti i geova di tutti quelli che lo considerano un dio o non un dio perché anche io considero se girova esistente come un giullare un buffone ma anche per me esiste geova e io gli metto in altre frequenze nel collo della camicia e lui si brucia ma per me esatto la tua informazione geova si è bruciata ce ne vuole e li facciamo coinvolge convogliare concentrarsi nell'entità mentale collettiva geova si vedo come se fosse un enorme disco di questa energia di entità mentale ok e sotto tutti come se fossero tutti dei geova ok più piccoli fatti di informazione ognuno va una persona che li sono singolari sì 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 proprio molto esatto perché è vero che è generale nel senso che tutti studiano assieme tutti studiano la stessa cosa ma la fede la credenza che ci metti e la tua comunque ok quindi per ognuno c'è un'informazione geova diversa ok analizziamo nel caso di annalisa annalisa vibrazione due milioni e mezzo bassissima l'accentuale di consapevolezza 193 per cento molto alta psp e ps 35 e 65 vite precedenti 2837 questa è la 2300 830 settesima sì la 2008 36esima e francesco e francesco percentuale di cervello utilizzata otto e mezzo molto bene ok causa esoterica della paura di andare di prendere l'aereo allora c'è un falconiforme che è come se quando ti descrivo quello che vedo allora c'è falconiforme vedo analisa che è in alto ok quindi quando vola in alto questo falconiforme che è attaccato a lei tramite due impianti ok è come se quando lei fosse in alto la facesse ballare così cercando l'energia è come se analisa fosse fatta cioè di davvero è come se avesse una parte sopra ok che lei è come se avesse del due lati di scianco che sono le protuberanze energetiche che gli crea falconiforme ok fa vibrare queste cose e lei si sente a paura perché come se non avesse più l'equilibrio ok sopra falconiforme quindi vediamo tutte le entità e teori che chi c'è odino altre entità eteriche allora abbiamo abbiamo visto geova e poi c'è un preia di rano come si chiama schistir ok dna 20 mantide 10 rettile nel resto vediamo e sopra o sotto il falco penna sotto ok ea cosa hai chiamato quale compito è chiamato ad assolvere 7 perché l'avevo già visto legato prima c'era una cosa che ci ha detto lei l'ha caduto dal muro questioni fisiche la dieta ecco bravo esattamente ok ok ma non la ritrovavo più perché avevo visto prima il collegamento avevo visto che era una roba antica ok questo è un programma è un programma che ha fatto già vite vite fa ha fatto l'ha fatto 357 vite fa c'è un contratto che ha firmato con i pleiadiani che praticamente io vedo come se fosse un esperimento ok è come se loro mandassero l'informazione ad analisa che per sopravvivere deve essere l'immagine eterica è che lei è tipo una sfera ok gonfia di aria e di liquidi e come se dovesse galleggiare nel lettere ok se lei si sgonfia troppo non galleggerebbe più nel lettere si radicherebbe di più nella matrix e lei potrebbe vivere più liberamente invece loro devono far sì che lei galleggi nel lettere perché prendono l'energia in questa maniera e come se riuscissero a tenerla una certa vibrazione sempre io lo vedo sempre lì ok è questo lo fanno lei ha firmato questo contratto da vite vite questo è neanche il nome del progetto sfera galleggiante bene ma ci sono anche altri progetti in corso no 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 ed è legato sia dalla dieta che al fatto che lei si sente l'aria nella pancia ok sempre aria la dieta inizia una dieta poi una cucina dentro di lei pericolo stai dimagrendo quindi a volte fa anche riempie anche la dispensa poi resiste per sicure ma sta di averla la roba da mangiare l'altra cosa che hai detto è appunto problema di pancia gonfia meteorismo stitichezza in parte passato con delle cure naturali se la causa è lei a diano sì 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 era arrivato già prima che era una cosa antica adesso sono riuscita a collegarla ok e dei dl ci sono due entità mentali 2 il livello 2 e poi c'è quella di livello livello 6 che è quella che collabora con gli avevano e la 2 che fa la 2 la rende un po incerta ok se sì che quella lì e quella delle vedevo un po incerta no così un po a ed è quella che fa sì che lei non riesca che quando lavora dipinge o cucina perde tutte le cose gli cadono le cose sporca ed è quella che a volte glielo fa succedere di più e poi fa sì che lei si senta a disagio con tutto questo sporco e questo disordine in giro quindi la provoca e poi gli manda al pensiero vedi hai fatto disagio esatto cattiva bambina ricordiamo a tutti che quando cade una matita una birra o un cucchiaio pieno di pastella non è successo niente si raccoglie e non si colpevolizza la persona a cui è caduta la matita la birra o la gomma o il cucchiaio il mestolo pieno di minestra non è successo niente questo è un retaggio del passato degli anziani perché un cucchiaio per terra voleva dire cibo sprecato voleva dire oggi non gliene frega più niente a nessuno colpevolizzate voi stessi non gli altri quando cade un cucchiaio se dovete colpevizzare qualcuno non gli altri colpevolizzate voi stessi nonne nonni i genitori e quant'altro ci sono impianti sia eterici che mentali allora eterici ce n'è uno a livello all'interno del cervello più o meno in mezzo poi ce n'è uno più o meno dietro l'occipite poi ne ho visto uno avevo visto già prima nell'utero e due sul dorso dei piedi una destra una sinistra c'è ci sono due impianti mentali li vedo sulle parti laterali del cranio ok quindi a destra a sinistra come se fossero un pezzo di casco intorno alle orecchie e che poi si uniscono dietro ma sono due impianti diversi tutte e due di un entità mentale o di una uno di uno e uno dell'altro no sono tutte e due dell'entità mentale numero di livello 6 chi ha messo ad analisa delle cuffie di fatto è esatto siccome si 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 esatto ascolta la mia voce se ascolta la parola di dio e ascolta le indicazioni segui le indicazioni ok quindi la paura dell'aereo alla causa tutelica nel falconiforme come possibile creargliela ci sono degli impianti si sono l'impianto quello all'interno del cervello quello dove c'è lo cipite ci sono delle vite precedenti legate a questa paura delle altezze dell'aereo perché le anche le giostre alte le fanno paura tutto quello che è su e giù sì un po ce ne sono 123 in varie vite una caso prendene una caso di queste 123 allora ho proprio visto la scena lei era guidava questo aereo poteva essere poi primi aerei che hanno fatto che fine ottocento sei quelli aerei monoposto con quelle due ali una sopra l'altra grosse stava guidando questo aereo e gli è stato provocato l'incidente da falconiforme ok non è morto era un uomo non è morto ma ci ha messo tanto a riprendersi e da quel momento lì è stata agganciata da questo da questo da questa in quella vita lì è stata agganciata da falconiforme da questa interferenza esattamente come l'ho vista con quella forma lì aerofobia o aviofobia la paura di prendere l'aereo chiamiamo tutte le persone psp e incarnate non che hanno avuto o hanno l'avio o aerofobia le invitiamo nella cinema a vedere la sessione da adesso in poi e ad acquisire la sessione vista finora fatta finora lo stesso le due figlie di analisa il marito tutti quelli che sono dentro il discorso testimoni andiamo con ordine paura dell'aereo vittime dell'aereo fobia si presentano tutti secondo me la maggior parte l'85 per cento anche al 15 mandiamo un messaggio di urgenza restate bene con questa paura ho presentatevi adesso ne arriva un altro 5 per cento al 10 per cento rimanente un altro messaggio codardi no perché qua basta basta e dai persa di consapevolezza deve prendere i suoi tempi basta basta fine fine allora ci sono la parola codardi che stavano proprio andando via la parola codardi si sono girati e sono rimasti un po in disparte fermi la non vengono nel cino in questo enorme anfitriatro ma stanno la in piedi un po lontano messaggino paura punto di domanda paura di conoscere la verità paura di cambiare paura di migliorare è punto di domanda questo è tutto il messaggino che gli arriva questo 10 per cento stanno ancora lento va bene ognuno è causa del proprio male due sorelle due forze le due figlie quella non dentro quella dentro quella dentro si è seduta vicino al papà quindi c'è e l'altra è di qua che abbraccia analisa ok però ci sono il padre che si si sa che vedete se ok tutti quelli che abbracciano la setta in pochi vengono neutri ad ascoltare gli altri hanno sono un po infastiditi da quello che abbiamo fatto a geova rimavano di sparte un po dispettiti quanti restano di sparte 70 70 messaggini gli stessi di prima codardi paura e poi tutta la fase seconda terza che ho detto 30 per cento un altro 30 per cento si siede nell'affiteato quindi manca al 40 al 40 un altro messaggino se avete ragione perché non guardare il film avrete un'occasione in più per dimostrare che il vostro dio è nel giusto e che noi siamo degli asini non si sono seduti quasi tutti sono attivi a pochissimi quei pochissimi gli diciamo c'è la possibilità che noi ci convinciamo che avete ragione voi e quindi entriamo nella setta non è questo uno degli insegnamenti della setta fare entrare più persone possibili per salvarci tutti sotto la la protettrice di jahweh si sono seduti ok hanno già visto tutto hanno già visto jahweh hanno visto jahweh la entità mentale collettiva jahweh la caduta dal muro a tre anni no da tre metri a cinque anni di annalisa è collegata alla paura delle altezze si è come se li avesse fatto rivivere come se avesse voluto la ps avesse voluto rivivere in parte far tornare alla memoria la caduta dall'aereo di quella vita la lei non la ricorda questa caduta però infatti però la ps si restituiamo questo ricordo nella memoria di annalisa si può si 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 può anche a livello fisco nella matrix a volte fatto visto tutto l'impianto vediamo un po di cause esoteriche tendinite alla caviglia sinistra allora è come se di lì passassero il flusso più grosso di energia c'è successo il flusso più grosso come se mandassero l'informazione ok al corpo va va nell'impianto dell'utero poi va al piede destro che ecco e poi invece dal piede sinistro la successero come se dovesse passare a terra e poi ripassare dal piede sinistro e ci c'è solo l'energia ma di schiena se ci sono ovviamente no ma se no no ma di schiena non problemi nella zona lombare ma non fatti colori è più fisico saltuari mal di testa e sono un po gli impianti impianti che a livello occipitale quello all'interno del cervello fibromi uterini e l'altro impianto che aveva già visto prima le limite non si sa se allergica o cosa allora non ci sono impianti però vedo come se avesse avuto tanti anni fa li avessero fatto un po di abduction mi sa che ha avuto qualche volta le pistassi la perdita di sangue dal naso io vedo la vota un po di volte in passato è come se fosse rimasto il tessuto del naso fosse rimasto allerta diciamo quindi questo lo vedi nel fisico o in eterico o durante l'abduction perché sembra che analisa non abbia questo problema di perdita di sangue no adesso no lo vedevo in passato non so se sì siamo anche in passato io vedo proprio due di questa perdita di sangue può essere anche interico assolutamente discorso della dieta l'abbiamo visto è la 2 no sì l'entità metallica cucina di pin pittura creativa l'abbiamo visto e poi c'è la figlia ok quindi abbiamo visto tutto quindi adesso ci dedichiamo al nostro amico geova che entri geova se si è arrivata c'era lì adesso ok ok chiediamo a geova qual è il nome del progetto che riguarda analisa e cosa pensa di analisa temperare mi ha detto il temperamento più che temperamento temperamento cioè il titolo è quello ma come se dovesse testare la resilienza quindi è un gioco di forze io attraverso le cuffie che ti ho messo continuano a dirti che devi rimanere ok quindi più possibile è come proprio un braccio di ferro no lei non fa niente ma lui la tira di qua ancora per restare lì non può andare non può disconoscere il contratto perché lo deve ciucciare l'energia e quindi è proprio questa cosa qua succede quando ci sono persone come analisa che sono lì per mollare arriva questo tipo di geova questo tipo di informazione geova no è come se ci fossero in ogni geova individuale come se poi intervenisse una parte di geova grosso a dare certi input che sono standard tra virgolette no quindi se ci sono delle persone come analisa che stanno per mollare dal geova grosso a quel geova lì arrivano quelle determinate informazioni ok quindi questo caso può essere vero isolato dalla famiglia poi sarà una brutta immagine per tuo marito e tutte queste cose qua ok cosa senza di analisa lui davvero fondamentalmente pensa che sia abbastanza forte e che quindi è proprio come se martellasse di più perché sente la vibrazione che tendenzialmente potrebbe alzarsi e quindi è molto faticoso continuano a mandare tante informazioni a vibrazione bassa la vede potenzialmente forte e decisa ad andare avanti per la sua strada quindi non è un caso che la figlia adesso non so se la grande la piccola comunque una delle figlie si sia appena battezzata testimoni geova sotto quasi a tradimento quasi a sua insaputa lei se l'è ritrovato improvvisamente così come dato di fatto nonostante abbia sempre detto la figlia che è contrario oppure se non hai dentro quindi insomma non è che abbia dato un po la figlia no sì è un po un circolo vizioso no che si crea successo adesso da poco per abbatta abbattere la vibrazione di analisa se è come se fosse ancora una un ulteriore influenza di vibrazioni basse su analisa anche di lato no di fronte di lato cosa pensa del genere umano io vè a nella media dice siete facili burattini ma aveva detto alto si ma hai tradotto tu sì perché è arrivata l'immagine vede burattini mi è arrivato ma vedevo non era sufficiente per descrivere l'immagine che vedevo vedevo lui con come se fossero tipo proprio sai dei delle immagini di si pupi quadrati addirittura di legno i pupi campani della tradizione partenopea più o meno però quadrati come quadrati con la testa quadrata le braccia quadrati a copie semplici puratini semplici però questi burattini lo foraggiano o lo aiutano solo oggi prendono energia perché può essere dal tono e dio è buono lui è un dio e dio dà della sua energia ai suoi adepti diciamo che se le informazioni che lui manda agli adepti possiamo interpretare come energia quella gli dà però rispetto a quella che ciuccia è praticamente niente lui ha creato il mondo ma no lui è uno degli dei di quell'epoca per cui la traduzione originale elohim è plurale che si era chiamiamoli ok sono 4 in tutto quindi altri tre altre tre come si chiamano altrimenti io non lo ricordo neanche tori 1 mi è venuto giù da monso se è l'altro zancor zancor con la z potrebbero chiamarsi albicocca ciliegie non frega niente ok chi ha vinto dei quattro che è più potente classifica allora diciamo che più o meno è come se fossero pace di livello sono pari ma è proprio un cambia la classifica tra virgolette a seconda del momento sulla terra questi questi quattro adesso sì e quindi tori a cosa si fa a chi si rivolge tori alla regione islamica giuda i cristiani bene zancor buddhisti vabbè io sinceramente davanti di sono di nuovo al discorso delle religioni mi spacco le mascelle di badisi sbadigli io non so più che cosa farci con questo jave fondamentalmente non c'è molto da dire quando è stato inventato jave e chi l'ha inventato se questa è una domanda reale perché se è un dio nessuno l'ha inventato no fatti ma sono ma se un'entità l'abbiamo inventata noi chi l'ha inventato avanti e chi è inventato java allora se non c'è nessuno non è inventato nessuno l'idea formazione java come abbiamo visto prima ok è stata messa io vedo come se si fossero messi d'accordo vedo tutti e tre poi si poseidone zeus e odino ok parte c'è al tempo è tutto la parola contempo la c'è nello stesso momento però diciamo se dobbiamo dare una pentempistica al tempo c'erano poseidone zeus e odino ok e sopra lucas ne hanno deciso di provare questo esperimento per vedere quanto riuscivano a quindi chi sono questi 24 cosa sono degli arconti degli dei no non sono dei direi più arconti ok sono dei falsi dei esistono fatti per quello è esatto il termine che dai dei dio ma in realtà ma che esiste dammi una data cioè dammi un tot di anni fa in cui è stato inventato yahweh è un luogo è un artefice voglio capire chi li ha l'ha inventato tra zeus poseidone e lucas agli ave ok milione e cinquecentomila anni fa e io direi zeus come se lucas avesse dato a tutti e tre sto compito inventate queste entità ok e ognuno e poi le gestite ve le gestite un po ecco e quindi chi aveva e zeus che dove vediamo nel posto preciso vediamo la creazione di yahweh non so cosa c'era allora è tipo proprio dove adesso tra l'asia e tra l'asia e botania sì ecco ok siamo lì quindi fisicamente cosa fanno usano l'argilla il fango hanno fatto con le tecnologie che c'erano già hanno fatto come hanno creato come quattro quadrati ok di terra grossi ci hanno messo questo in questi quattro questi quattro arconti ok ognuno sotto ognuno hanno messo tot umani vabbè creiamo ha dato delle regole creiamo il centro nella scena sono lì in quell'epoca in quel tempo in quel luogo sono lì che assisto io faccio quello che voglio la creazione mia mi sposto dove voglio creo quello che voglio faccio quello che voglio io sono dio e posso senza interferire nessuno fare quello che voglio queste sono quattro creazioni della mia creazione matrix creo quindi qui in questo momento in questo punto dove tutto iniziato dove queste quattro maledette religioni perché tutte le religioni sono maledette da me nascono e creo un ad eternum collare besso al collo di questi quattro cani stretto in quanto ad eternum non si può togliere i quattro hanno il loro ad eternum collare nuova versione disponibile su amazon la tipico cosa ho visto sì allora prima quando ho visto la creazione erano questi quattro quadrati di terra e la terra era scura marrone marrone scuro 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 ok e al centro c'erano in ogni parte in di quadrato c'erano c'era un arconte no dei quattro poi li ho messo l'ad eternum collare e loro sono diventati vibrazione quindi sono sciolti e tutta la terra è diventata luce ok questo vale per tutti o vale per me io lì lo vedo per tutti perché quella cosa lì era non era soggettiva era oggettiva quel momento lì e la creazione come vede adesso io e la letità mentale collettiva yahweh allora città mentale collettiva la jave la vedo ridottissima cioè quasi come se si fosse asciugata ok quindi prima poteva essere un disco così adesso è così è rimasta solo tipo in tutti gli avete le persone è rimasto come un filo che è solo la memoria di che cos'era ed è quel solo e quella memoria lì è quello che fa sì che gli aveci sia ancora la per l'entità mentale collettiva jave quella piccola cosa ci sia ancora questo questo potrebbe far sì che pian piano ricresca però per un momento l'abbiamo un po e al momento la figlia e il marito di analisa che fanno sono stupefatti positivamente di quello che si può fare di cosa era visto cos'era di avere realtà sono stupefatti ok quello che abbiamo fatto fatto io hai fatto tu lo possono fare anche loro vogliono provare se papà un po più vestire la figlia si ok loro però non lo possono fare perché non sono loro che hanno chiesto questa sessione lo pensiero ad analisa analisa può tornare indietro in quello che abbiamo fatto e fanno anche lei creare una d'eterno un collare e metterlo al collo dei quattro cani leva che si fa già facendo la mamma e la moglie cioè rispettivamente il ruolo che ha nei confronti della figlia del marito è proprio meglio ma come la mamma e la moglie e dio fa queste cose ma allora lei e dio non è jave il cane col collare e gps attaccato la figlia dice ma se l'hai fatto tu lucio prima e lo fa lei adesso lo può fare chiunque e quindi ha visto che diceva allora o chiunque dio o c'è ci sono i figli di dio o io siamo noi all'interno ha fatto questa considerazione se e stava a guardare adesso fatto fatto quelli nel cinema legati a jave vanno a farlo anche loro uno ad uno però non fare due cose importanti creare una d'eterno una sfera che emette vibrazione per sempre laddove viene lasciata o attaccata a chi viene lasciata e regalata per essere creata per se stessi può essere messa nella propria casa nel proprio corpo emozionale mentale eterico subliminale si può mettere ovunque scuola al lavoro nei propri campi di competenza ovviamente a qualche vampiro energetico ha così tanta voglia della nostra energia gli si regala una d'eterno ma ecco il vampiro energetico probabilmente non si sentirà mai più non chiamerà mai più non vorrà mai più versa riversare i propri problemi e la propria negatività sul nostro la nostra giornata questo anche un altro esempio di utilizzare questa creazione dimmi elena che vedi adesso guardando la fase sequenza sono accelerata sono andato un po verso la fine ed è a parte c'è gli arconti ormai non c'erano praticamente più quindi poi li ad eterno li mettevano nel terreno dei quattro angoli dei quattro quadrati e adesso è come se la vibrazione come se il terreno che vibra quella vibrazione infinita è come se vibra talmente tanto che come se si alzasse ok e vedo proprio anche il colore che cambia è diventato azzurro bianco azzurro e si diffonde anche intorno quanti di quelli che erano nel cinema legati ai avevano fatto questo lavoro ma quelli nel cinema tutti riviste andare va bene che altro cosa vuole fare analisa adesso vabbè no chiamiamo i genitori infatti madre il padre allora arriva con la madre e padre dice subito analisa ti ringrazio tantissimo per aver fatta questa cosa così finalmente anche tua mamma vede cos'era ha visto cos'era e la madre e la mamma è stupefatta e per contente consapevole ha visto tutto visto anche il cinema si sente libera e dice grazie ad analisa vogliono dirle qualcosa di più specifico nella a di là del discorso di aver che non deve riempire nemmeno hanno fatto le neutro c'è adesso sono neutri volevano solo ringraziare di questa cosa e la mamma le vuole dire mi è piaciuto vivere con te perché sei stata e re ritenere a ieri e rimorre la mia morbidità di ceri la sentiva come se fosse stata la sua vatta e le è piaciuto tanto vivere con lei ha detto come come la vedi esteticamente la vedo o intorno ai 55 anni vestita in maniera curata niente di sfarzoso ma curata con sopra uno di quegli scialle neri a fiori tipo degli orecchini pendenti molto vedo longilinea abbastanza alta non so quello che questo e la vedo molto serena e molto c'è proprio strutturalmente della forte alta e con questo sorriso amorevole proprio di mentre dice questa cosa d'analisa la vedi connessa ancora java no 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 va stato mostrare se cioè lei in automatico è già venuta nel cinema ha visto già tutto si erano lì sì sì ed esteriormente come vedi il padre il padre lo vedo capelli corti neri un po neri un po brizzolati con tipo il ciuffo di qua verso destra e lo vedo vestito con una camicia e un gillerino sopra i pantaloni le scarpe nere abbastanza eleganti anche lui sostenuto con un bastone che non è che lo sostiene proprio diciamo che è un po un aiuto ma questo momento lo sta tenendo in mano così messaggio finale del padre della madre intanto apriamo il portale aureo sei bella come sempre chi lo diciamo bene papà ok portale aureo e li salutiamo diciamo che se la madre avesse voluto rimanere attaccata a java e avesse accettato di entrare nel portale aureo si staccava inevitabilmente da java e non c'è se si è strano perché se gli aveva un dio non va nel portale aureo può fare tutto un po andare a portare ora informazione informazione in che senso c'è quella è la nostra creazione quindi lo vedevo proprio come c'è la persona legata a quel tipo di java c'è di quella forma diceva ok come se creasse l'idea geova in quel senso e formazione idea geova a informazione a sé in forma sono andati e si ha chiuso ok riapriamolo e chiamiamo tutti i disincarnati legati a java per accelerare la cosa mettiamo una d'eternum con questa funzione davanti al portale aureo ok perché anche disincarnati e danno alla loro energia ma a sé tutti dentro dimmi se sul totale si presenta al cento per cento chi non si presenta disincarnato legato ai suoi tre foglietti nelle tre veline primo codardo secondo paura è terzo tutto il discorso che ho fatto ok sono arrivati tutti 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 entrati se stanno entrando se se quelli che entrano hanno entusiasmo da manifestano entusiasmo questo entusiasmo deve arrivare a quelli che non entrano ancora questo entusiasmo che da lì è uscito ha fatto sì che si accelerasse tutto come se venissero risucchiati dall'entusiasmo dentro al portale aureo adesso sono entrati tutti ok vediamo ed andiamo al cluster con analisa 2008 quasi 3000 vite ci sono dei contratti sì sì allora distinguiamo i contratti che legano analisa a yahweh i contratti con entità eteriche i contratti con entità mentali tra categorie in questo caso dimmi come li vedi vedo come se fossero delle bolle però un po più consistenti si sono anche se fai così si bucano quelle legate i contratti legati a yahweh sono rossi quelli legati all'entità mentali sono gialli che facciamo li teniamo come li vedi fogli libri ma vedo proprio delle bolle come se fossero delle bolle consistenti apre un portale definitivo e le ha fatte tutte rotolare dentro bene un po di balla in meno ottimo chiuso chiuso avatar no prima lasciamo nel cluster lo crea analisa un ad eternum uno di questi solini piccoli soli che emanano altissime frequenze per sempre come a monito no di futuri tentati di tentativi future per eventuali nuovi contratti ok siamo andati all'avatar appena siamo arrivati davanti all avatar ha smesso di schiacciare i tasti analisa come la vedi decisa in attesa di consigli o di ordine no insomma così di cosa fare come agire sì un po sì non tanto cioè prima l'ho vista più più decisa al cluster l'ho vista più decisa qua se lei vuole il l'avatar poverino lo lasciamo lì dove andiamo perché poverino l'avatar ha un po di carità cristiana no 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 verso questa struttura artificiale che la controlla 2800 vite contemporaneamente al poverino lui ha diritto di controllare non lo lasciamo lì no no aperto il portale definitivo ok sta lanciando tutto dentro fatto se adesso lo chiude ok la chiusa ok accompagniamola a vedere se ci sono ancora nel suo caso interferenza di qualunque tipo ad action passato nel presente impianti eterici mentali entità eteriche mentali cloni c'erano ok fobie aerofobia via legami con geova grande dio nuova vibrazione quasi un minimo storico 2 milioni e mezzo un miliardo e mezzo ok pillola vic vibrazione informazione consapevolezza non lo ripeto l'ho già detto tante volte la vuole prendere è assolutamente non interferenza ma un'opportunità per aumentare lei da sola la propria vibrazione a se stessa e acquisire informazione che non interferisce lei vedrà e capirà di tutte le mie sessioni vedrai capirà se informazione attendibile oppure no se la vuole oppure no non è imposta consapevolezza quello che lavorerà come consapevolezza lo può aumentare con questa pillola vic che ci manca soltanto che qualcuno magari mi scrivo in questi giorni interferisci dai delle cose no non sono interferenza sono offerte uno le valuta in ambito eterico in ambiente eterico le valuta e le capisce non ci sono contratti come fanno le entità devi fare anno carmello e agisce di conseguenza finora l'hanno presa tutti la pillola vi forse qualcosa di valido ce l'avrà e ribadiamo il know how la conoscenza di come si costruisce facilmente un ad eternum ha fatto ha mandato giù e adesso vibra aumentato la vibrazione arrivata 10 miliardi 12 15 si ferma 15 per ora ottimo non so quante volte sia più di 2,5 milioni ma tante 15 sera ok tante percentuali di consapevolezza che era alta molto anche la settimana sera alta si è alzata parecchio due eventi ma era già molto alta diciamo che sui 193 non si è alzata così tanto era altissimo certo era già altissimo questo che fa un po strano una grandissima consapevolezza e pochissima decisione no chi era molto infatti riuscivano a interferirla molto quello che pensa la gente cosa diranno se si era proprio una roba molto martellante psp e c'è da una setta 45 e 55 vite precedenti curioso 1200 meno della metà vita di francesco esiste ancora 1920 ovviamente tagliato la gaglia tagliato le gambe a sta cosa otto e mezzo il cervello nove e mezzo cose che può fare analisa per aumentare questa percentuale che dipende di caso in caso cambia di caso in caso la prima cosa che mi è venuta da dirle ridipingere i muri di casa cambiare i colori magari con delle greche e poi un'altra cosa che la ps dice è andare a fare delle passeggiate nei boschi nei prati prendere delle cose della natura quindi magari di petali di fiori delle foglie particolari un sasso particolare legnetti a e poi andare a casa e dipingere queste cose che ha trovato quindi magari creare una forza poi dipingerla molto bello infatti la pittura che lei ha messo un po da parte è una forma di creazione propedeutica messa questo tipo di obiettivo no l'aumento dell'utilizzo della percentuale di cervello bene con queste nuove condizioni avrà soffrirà ancora di aerofobia paura di prendere l'aereo con la con le condizioni di oggi no deve cercare di non legarsi alla memoria della paura messaggio finale di analisa psp e a se stessa e abbiamo finito quando vuoi entrare in contatto con con me con la ps immaginati che dentro a una bolla che fluttu e nell'aria e questo ti aiuterà che aiuterà parecchio entrare in contatto con me quindi magari quando vai nei boschi fallo quando va e nei tratti quando va nella natura se questa cosa qua basta come vedi figlie e marito nel cinema allora li vedo entusiasti di quello che stanno vedendo quello che hanno visto e li vedo rispetto a prima come se adesso fossero tutti i vestiti di bianco quindi luminosi che sprizzano luminosità nella realtà di tutti i giorni questo si rifletterà si vedrà si vedrà come se come se lei per un po poi dopo ci sono le loro interferenze un pochino si sentiranno di un'opera come se le per un po da adesso in poi rivedesse tutti un po più allegri più solari più leggeri se lei uscisse ufficialmente dalla setta oggi domani quello che quali sarebbero le conseguenze vedo due o tre parenti che non è che proprio le toglierebbero continuerebbero a salutarla ma la terrebbero abbastanza distante ma su tutti su tutti vedo solo due o tre parenti tutte le marito e zi no la ripudia no no la segue se secondo me fra un po si ci metterà un pochino ma la seguirà la figlia ne ho battezzata no la filia rimarrà lì ma con lei mi neutra la vedo neutra scusa la domandaccia elena ma quanto la decisione della figlia è stata influenzata dalla posizione della madre che è dentro anche se la contraria è dentro si vedo allora la madre ok come se le avesse avuto la conferma perché la madre era dentro però vedo tanto le zie che hanno influenzato da parenti parenti si e analisa dice si fa sì con la testa ok pronto a tornare come vedi la situazione bene bella disconniti allora da tutto e tutto